C'era una volta, ma non tanti anni fa, un paesino nel Lazio in preda al degrado e allo spopolamento. Un bel giorno, un suo abitante ebbe una geniale intuizione, invitare street artist a dipingere sui muri delle vecchie case i personaggi delle fiabe più amate dai bambini di tutto il mondo. E così, dal 2017, Sant'Angelo di Roccalvecce, frazione di Viterbo, è diventato il paese delle fiabe, si è salvato da una fine imminente ed è diventato uno dei luoghi più interessanti da visitare non solo nel Lazio, ma in tutta Italia. Grazie.